finalmente è stato rilasciato il video integrale del crollo del ponte morandi guardiamolo insieme eccolo si vede prima il ponte che ondeggia paurosamente poi la campata che si spezza e crolla rovinosamente nel vuoto si vedono anche i cavi d'acciaio che restano sospesi per un attimo scusate mi chiamano dalla regia un attimo si a ok ok chiedo scusa mi dicono che quello che vi abbiamo mostrato non è il crollo del ponte morandi si tratta in realtà del crollo del tacoma bridge un ponte crollato nel 1940 nello stato americano di washington pensate di un ponte crollato quasi 80 anni fa il pubblico ha potuto vedere le immagini integrali del crollo mentre di un ponte che è crollato nel 2018 con le dozzine di telecamere che lo inquadravano h24 noi non abbiamo potuto vedere praticamente niente ci hanno solo mostrato degli spezzoni tagliuzzati malamente dove l'unica cosa che spicca su tutte le altre è proprio l'intenzione palese di non farci vedere il momento del crollo per questo motivo dovrei cambiare il titolo di questo video dicendo ponte morandi il video integrale del crollo non ce lo faranno mai vedere prima si sono inventati dei blackout retroattivi che avrebbero addirittura cancellato le immagini già registrate poi ci hanno detto che i filmati andavano in dissolvenza proprio nel momento del crollo poi alla fine hanno ammesso di avere il filmato integrale del crollo ma il procuratore cozzi ha detto che non poteva mostrarlo perché non si volevano influenzare gli eventuali testimoni oculari scemenza assurda fra le altre cose perché se hai il video integrale del crollo di quello che dicono i testimoni ormai non te ne frega più niente in ogni caso sono passati quasi quattro mesi dal crollo del ponte e si presume che tutti i testimoni a questo punto siano stati interrogati nonostante questo il video non ci viene mostrato ed è chiara l'intenzione a mio parere di non mostrarcelo mai alcuni dicono che non vogliono mostrarcelo perché rivelerebbe la demolizione controllata del ponte io invece sostengo che non vogliono mostrarcelo perché vogliono ritardare al massimo il momento in cui tutta la popolazione si rende conto con i propri occhi in modo plastico di un crollo disastroso dovuto ad incuria e quindi dalla responsabilità oggettiva di autostrade in altre parole secondo me si cerca di ritardare il più possibile il rilascio del video per proteggere autostrade che cerca ancora in qualche modo di essere coinvolta nella ricostruzione è chiaro che se vedessimo il ponte crollare e sbriciolarsi sotto i nostri occhi diventerebbe molto più difficile poi farli partecipare in qualunque modo alla ricostruzione in ogni caso qualunque sia il motivo per cui non ci fanno vedere il crollo io ritengo che sia sbagliato a questo punto nasconderlo al pubblico per questo motivo ho lanciato una petizione intitolata ponte morandi vogliamo vedere il video integrale del crollo io non sono un grande fan delle petizioni online perché di solito sono molto generiche e non ottengono niente se fai una petizione intitolata fermate il genocidio in ruanda poi a chi la mandi al re del ruanda se fai una petizione intitolata salviamo le balene poi a chi la mandi al re dei pescatori però in questo caso esiste un destinatario preciso che è la procura di genova per questo ho lanciato una petizione diretta a loro che trovate su change.org ve la leggo al volo il 31 agosto 2018 il procuratore di genova cozzi ha dichiarato vedi il fatto quotidiano di essere in possesso del video integrale del crollo del ponte morandi ma di non poterlo mostrare al pubblico per non influenzare eventuali resoconti dei testimoni oculari ora che si presume che le deposizioni di questi testimoni siano finite chiediamo che il video venga mostrato pubblicamente nella sua interezza senza tagli e senza manipolazioni di alcun tipo gli stessi cittadini che percorrono ogni giorno le nostre strade e pagano il pedaggio ai caselli autostradali hanno il pieno diritto di sapere esattamente come e perché il ponte sia crollato tanto più hanno diritto di conoscere alla verità tutti i parenti delle vittime che quel giorno hanno perso la vita nel crollo del ponte mantenere il segreto su quelle immagini serve solo ad alimentare sospetti di vario tipo che vanno dall'idea che si voglia in qualche modo favorire la società autostrade ritardando il più possibile la rivelazione plastica delle loro responsabilità oggettive fino a vere e proprie teorie del complotto che vogliono il ponte demolito intenzionalmente con uso di esplosivi si ritiene quindi in qualunque caso che sia interesse stesso delle nostre istituzioni il fare chiarezza al più presto su quanto accaduto quel giorno nella valle del polcevera la petizione come dicevo si intitola ponte morandi vogliamo vedere il video integrale del crollo e sta su change.org per firmarla trovate il link su youtube e su facebook sotto questo video oppure su luogocomune.net sempre sotto questo video nell'articolo dallo stesso titolo già che ci sono ne approfitto per mostrare una cosa a tutti quelli che sono convinti che il ponte sia stato demolito intenzionalmente e che stanno facendo ricerche approfondite in questo senso come è noto i sospetti di una demolizione si sono fondati almeno inizialmente sui due grossi lampi che si vedevano al momento del crollo del ponte ripresi da un'automobilista di passaggio molti dicevano che fossero i lampi di due esplosioni io invece sono sempre stato convinto che quei lampi fossero stati generati dal cortocircuito causato dalle macerie del ponte che cadevano sulla ferrovia sottostante ebbene girando in rete ho trovato un video dove accade proprio una cosa simile è un ponte che crolla in russia al passaggio di un camion sulla transiberiana qui si vede il camion che passa il ponte che crolla e sotto si intravede un lampo dovuto al cortocircuito dei cavi della ferrovia da questa inquadratura il lampo si vede meglio non so vedete un po voi se può esservi utile bene grazie e se siete d'accordo firmate la petizione e fatela girare vediamo cosa succede fosse mai una volta che i cittadini riescono a farsi ascoltare dalle istituzioni grazie a tutti